Lunga intervista di Luciano Spalletti a Corriere dello Sport con tantissimi spunti, tra cui quello molto interessante sulla sua permanenza al Napoli dopo la prima stagione. Spalletti ha deciso di rilasciare un'intervista a Corriere dello Sport, male, piuttosto male, sarebbe stato meglio qualche altro giornale eventualmente, e ha detto tantissime cose sicuramente interessanti, possibile commentare tutto, sicuramente ci sono anche riferimenti e frecciate a De Laurentiis, magari anche amichevoli a questo punto, essendo Spalletti nella posizione di essere CT della Nazionale, quindi dipendente, stipendiato, tesserato della federazione, una posizione sicuramente delicata, tanti temi anche per quanto riguarda la gestione dei ragazzi, la gestione dei giocatori, il riposo, dice non deve essere un codice Spalletti ma deve essere la normale professionalità, quella di riposarsi bene, meglio andare in campo ad offrire un po' meno qualità, ma più integrità morale, ecco questo magari è proprio codice Spalletti, non è una cosa che si può pretendere ad altri allenatori e da tutti quanti i giocatori, e poi appunto c'è il tema del fatto che lui ha scelto, dice, la tristezza di lasciare Napoli quando invece sarebbe stato molto più conveniente restare. Molto più conveniente restare al Napoli campione d'Italia, un progetto ben avviato, una squadra portata al top, tante soddisfazioni ancora da prendersi, da un altro punto di vista però uscendo dalle dichiarazioni di Spalletti bisogna anche dire che lui ha salvato la reputazione, è un eroe e resta un eroe di Napoli, e la sua recente apparizione proprio al Maradona lo conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, mentre rimettendosi in gioco avrebbe rischiato anche di macchiare e sporcare un pochino la sua immagine, quindi ha preso la sua gloria e se ne è andato. Per le sue motivazioni, anche legittime, e sicuramente per qualcun altro sarebbe stato ancora più difficile restare con De Laurentiis, e infatti la stagione successiva questa racconta proprio questo, difficilissimo fare un altro progetto, non con un altro allenatore, ma addirittura con 3 o 4. Però Spalletti ha riflettuto sul restare o meno a Napoli, anche dopo la prima stagione, dice, i miei collaboratori mi avevano detto che restiamo a fare hanno venduto tutti, e fa l'elenco di una serie di nomi, di una serie di cessioni che ricordiamo tutti, e dice Spalletti tanta qualità. Qui si entra nel discorso, allora gli allenatori vogliono i giocatori forti? Sì, però stiamo parlando di un allenatore che ha visto andar via una serie di giocatori forti che aveva allenato lui, e che facevano parte del suo progetto e sui quali lui aveva improntato il suo progetto, praticamente pezzi del suo lavoro. Un po' come se gli avessero smontato in parte la squadra, questo non fa piacere a nessun allenatore, neanche a chi dice, non mi serve il mercato, io lavoro con quelli che ho. Cioè nessuno, perché tutti gli allenatori vorrebbero giocatori i più forti possibili, però ci sono quelli che si accontentano di più e pensano di più al loro lavoro, e quelli invece che lavorano di meno e vogliono solo giocatori da comprare. E Spalletti quindi decide di restare, convince il suo staff a restare per continuare il lavoro. Questo sicuramente gli va dato merito di questa scelta, perché magari qualcun altro avrebbe detto, senti, sa che c'è, me ne vado. Anche perché ricorda che De Laurentiis, nelle primissime parole che gli disse, fu secondi, siamo già arrivati e noi in Champions ci dobbiamo andare comunque. Quindi bisognava vincere lo scudetto. Impresa, impresa assoluta, difficilissima, nessuno ci è riuscito per 30 anni. E ancora sul discorso di aver scelto la tristezza, appunto sarebbe stato più comodo restare dopo un percorso che, dice Spalletti, mi ha visto anche rinunciare al comfort dell'albergo dove vivevo all'inizio, ed ero servito e riverito per andare a dormire in branda a Castelvolturno, per lavorare anche nei ritagli di tempo e risparmiare anche la mezz'ora di viaggio da Napoli. Su questo grande impegno, applicazione e abnegazione. E i risultati si sono visti, non solo lo scudetto, non solo il cammino in Champions, ma soprattutto le prestazioni, il rendimento, la bellezza. Spalletti poi aggiunge, lato nazionale, mi piacerebbe portare 4 numeri 10 mondiali dell'Italia, che sono Baggio, Totti, Del Piero e Antonioni, per ispirare i ragazzi, per dare anche una ventata di appartenenza, perché, dice, la maglia dell'Italia bisogna cucirsela addosso, bisogna riempirla, bisogna starci dentro nelle due ore di allenamento, ma anche in tutte le altre 22. Insomma, sentirsi giocatore della nazionale italiana tutto il tempo. Questa è effettivamente la filosofia Spalletti che ha provato ad impiantare fin dall'inizio. Ora, è chiaro che Spalletti non è perfetto, è anche discutibile in quello che dice, non è tutto bello quello che ha fatto, questa è la sua versione. Interessante però lo spunto, quindi, con i suoi collaboratori che erano un po' scettici, lui li ha convinti ed ecco l'impresa che sono riusciti a fare. Perché per vincere bisogna fare una sola cosa. Non c'è modulo, non c'è stile di gioco, non c'è metrica e parametro statistico. Solo una cosa è fondamentale per vincere nello sport e nel calcio. Lavorare. Lavorare Lavorare Grazie a tutti.